bentornati giorno 2 sempre crossfit pescara sempre con alex martedì 21 agosto iniziamo con un warm up scaldiamo bene e ci attiviamo con due set da 100 single under poi andiamo a fare 3 4 7 5 salti alti sul posto e 5 push up sulle ginocchia iniziamo il workout con 6 round 20 secondi di lavoro arm wrap è un minuto e 40 di rest un round push press braccio destro un round push press braccio sinistro lavorate con un carico a salire seconda parte invece è un for time iniziamo con 30 calorie e 21 calorie per la donna di hustle bike 5 round 30 double under 7 dual dumbbell push press di nuovo 30 calorie e 21 per la donna alla bike di nuovo 5 round 30 double under 7 dual dumbbell push press e 30 calorie 21 sulla sold bike vediamo i carichi di questo workout quindi un beginner per forma con dei dumbbell da 10 kg o 5 per le donne e con dei single under un livello intermedio lavorerà con un carico da 15 lui e 10 lei mentre l'avanzato lavora con 22 e mezzo lui e con 15 lei divertitevi e spingete e date tutto cornice sul ugualdare cornice di